La criminalità è sempre più interessata all'olio vegetale usato e ne intercette il riciclo per reintrodurlo sul mercato. L'allarme arriva dal CONOE, il consorzio che si occupa del recupero di questi oli. Stimiamo che siano oltre 15.000 tonnellate la quantità di olio che le attività illegali sottraggono all'economia regolare e all'economia legale. Questa quantità di olio viene purtroppo destinata in prevalenza o alla mangimistica o addirittura nel circuito alimentare umano. La corretta raccolta dell'olio, anche di quello che usiamo a casa, è molto importante. Gettato negli scarichi domestici crea seri problemi ai depuratori, mentre se raccolto e avviato agli impianti di trattamento produce un beneficio economico e ambientale. A regime questa raccolta deve portare un beneficio che noi consideriamo di oltre 120 milioni l'anno di risparmio sulla bolletta energetica e sulle importazioni di combustibili fossili e oltre 70.000 tonnellate l'anno di CO2 risparmiata. Il trattamento negli impianti del CONOE permette all'olio usato di scivolare dalla padella ai motori diesel. La raccolta ora sta passando dal settore professionale, industria, ristorazione e artigianato, a quello domestico. Un programma ambizioso che coinvolge tutti i cittadini e che prevede un salto nella raccolta da 94 a 260.000 tonnellate. Un esempio di economia circolare che va protetto dall'inquinamento del crimine.